Ragazzi è mattina nella vita dei youtuber e indovinati un po' chi è l'unico che non è qua con noi Beste! Il posterrino? No ferro, tu ci sei, sei qual'altro Ragazzi sapete che cosa stiamo per fare? Voi avete idea, voi siete i miei due complici più folli, migliori Qui stiamo per spaccare la tastiera in testa! Oggi gli andremo a fare lo scherzo del mouse wireless, un classico deve registrare su Fortnite, lo sapete? Torna a fare l'arena per la prima volta da solo Un bimbo Nutella totalmente, deve trajardare sempre Totalmente e noi oggi lo andiamo a far sferrare, semplicissimo Ma adesso ho bisogno del vostro aiuto perché dobbiamo impostare una videocamera un po' segreta Per inquadrarlo e vedere un po' la sua reaction Dici che è abbastanza segreta così? No così no, è un po' antisgamo perché sennò ci becca subito Ragazzi il vostro aiuto serve a questo, datemi un vostro telefono per favore E ragazzi videocamera messa, allora così si vede molto, lo ammettiamo, si vede, potrebbe sgamarla Però se lui non entra e guarda là sopra e si mette qua e giocano, non la vede Il vantaggio è che voi siete bassi, qui non la vedreste mai Io ho possibile Complimenti, adesso aspettiamo solamente che finisca di fare quello che sta facendo, ovvero defeccare 5 minuti più tardi Regà da te un attimo che registro, faccio... 50 kg in arena Ma che cosa vuoi fare? 50 kg 50 kg, si li prende mangiando la nutella per fare le 50 kg in arena Cosa consigliate, arena o singolo normale? Arena, arena, arena E signori siamo tornati su Fortnite in arena da solo Per demolire la gente In realtà è mattino e sono un po' stanchetto ma... Ma sono con... Che... Il mouse che ci hanno dato, è uno schifo Cioè si è girato da solo Oh Ma stai bene brava Ma stai bene, non hai visto anche te che non sei gusto Quante volte ti ho detto che non devi bere troppo, troppa nutella ti stai mangiando Guarda, guarda, cazzo Guarda, ma che cazzo dici? Guarda, ma si sta muovendo da solo, so fermo Che succede? È tutto strano È stai a vedere di te, stai a vedere Non va al mouse Guarda Ma vedi? Questa qua sta dicendo tante di quelle cagliate che... Ma come non funziona? Oh, lo vedi almeno adesso? Sì, vabbè, hai messo il dito così Sì Ma che cazzo dite, raga? Ma dai Ma ti pare? Ma rega, almeno guardate, mi fa di incazzare voi Ho capito, ho visto, cioè lo stavi muovendo e si è mosso È normale, è un mouse Allo stavi muovendo e non è che se fai così si muove il mouse, eh È un mouse Ma dai E che faccio, ho riprito? No, 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 cioè ma... Ma è avanti il video, stai registrando Non è successo niente, cioè infatti Mi state dando fastidio, fatevi cavoli vostri, basta, facciamo il mio video, non rompete È fastidio poco che... Cioè si vede che il mouse andava solo Dove fare pure una scelta per il mio video Poi ti porti una camo... Oh! Rega, io sto registrando Cioè le mani qua Adesso lo vedete il gioco come va? Eh no, eh Eh no, se niente non è niente L'hai visto? Sì, l'ho visto Però te la stavo con le mani porte Eh no, perché ti non le mani porte? Eh no, perché ti non le mani porte? Eh no, perché ti non le mani porte? C'è il mouse che fa caso? Devi cambiare con più Se lo sei rivedetto, fa schifo Poi l'altro non capisco, sto mouse nuovo è anche figo, raga, ve lo giuro Comunque se perdi è perché sei scherzo Mica per... Zio, zio, tu non hai idea Mi dirà da solo il mouse Eh certo, se tu fai così gira E se non faccio così? No, ma perché ti stiamo... Oh raga, io ho un attimo in bagno No! Refe, Refe, vieni qua a vedere, Refe Sono un attimo in bagno, Fra, arrivo È un attimo in bagno, devo pisciare Raga, 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 raga Sta andando alla grande Io adesso voglio spettare una cosa Secondo voi da qua prenderà il mouse Cioè lui ancora non lo sa, è incredibile No raga Ragazzi dai, qualcuno mi sta trollando di voi Cioè è ovvio, è ovvio Perché vi pare che... Si, come faccio? Refe, vieni qua a un attimo Cioè ragazzi, non è possibile Se almeno vedete voi che mi si muove da solo Ditemi, hai ragione, si muove da solo Capiamo cos'è Se voi mi state dicendo che non è vero E si vede palesemente Guarda, ma adesso non si sta muovendo Guardalo lì Guardalo lì, è fermo Eh beh, ci mancherebbe fermo anche il gioco È arrivato il genio ragazzi Eh, hai detto che ti si sta muovendo da solo Guarda, che cosa? Eh, guarda che cosa? Cosa? Guarda che cosa? Che cosa? Vabbè, io mi ero vado di là C'è un ragazzino No ragazzi, non mi stai trollando Dai, adesso è che sto stupido Scusate, dite se mi stai giocando a punto Guarda, guarda Maledi, tremata Ah, guarda Adesso ti dimostri qual è il problema, ok? Ok, schiaccio un tasto E quando lo schiaccio E poi si muoverà da solo No, no, non l'avete capito Guarda, io schiaccio G Schiaccio G No, è una cosa che succede Guardate, si muove da solo Dai, mi stai trollando Nessuno ti sta Ti giuro, nessuno ti sta trollando Nessuno Nessuno, dai, regà, basta Ditemi se mi stai trollando Basta Nessuno mi sta trollando Ma almeno ditemi Avete ragione Vedi, se sto muovendo il mouse Ma dove faccio? Ma dai, ti scudo Perché non sto facendo No, è il prego Allora, regà Dì, dai Eh, è parecchissimo Ragazzi, ragazzi C'è un'invergenza Scusate Sta piangendo troppo il ragazzo Sta piangendo troppo Questo ragazzo Gli serve un po' Di fazzole Avreste mai fatto queste cose Normalmente Se mi si muove uno schermo Che è paesemente mosso Da qualcos'altro Dite lo punto Stop Dal cielo Zeus Perché è a noi? Five minutes later Ehm Ci ha praticamente Già scammati Ma figura No, perché tu puoi Farsi in modo Di far sì Che non capisse Che fosse uno scherzo Grazie mille Un dottore 200 IQ Adesso lo lasciamo stare Per un attimo E poi quando arriva Mi dà un po' fastidio Ma non Prendere Ci sei? Sì, ma Non dire che mi hai Mentre così Tu l'hai detto Mi piace C'è Se l'ho fatto tutto Quando mi capisco Che succede Però Ci provo Mi dicono La vale Sottorica E la mia E la mia Con il vicino E gli spero Ma Sì Ma Ragazzi È un aus Non è Ma guarda Controlla Se l'hai collegato Per me Al conflitto Frega Questo è da chillare Per forza Se dovessimo morire Pure da questo Cioè Vabbè Mi ritiro Da forte Per sempre Fermi tutti Allora Mi sta pushando Mi sa Ma che vuol fare No Non mi pushare Zio No 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 Regà Riparte col mouse Vedete Guardate Regà Dai No Allora Regà Vi spiego Perché Eh Aspetta Regà Un attimo Che lo dico Nel video Ragazzi Io non capisco Oggi c'è Ok L'ho chillato Comunque Perché sono forte Però Regà Guardate Ok C'è la mano C'è la mano su E lo vedete Anche voi Mi si muove Da solo Il mouse Se io non ho parole Regà Non so che stia succedendo Al mio computer Non so se altro Io vi dimostro Che so fermo E mi si muove Vabbè Adesso no Perché è normale Quando alzo le mani Chissà come mai Il mouse va bene Io spero che si veda A volte Perché È particolare Come cosa Ma io sembra Che No ragazzi No Aspettate Regà È qualcuno di voi Per forza Cioè io ve lo giuro Ragazzi Che appena alzo le mani Smette di muoversi Il mouse È normale Cioè quando alzi le mani Non lo muovi più E no Ma non sono io Muoversi Non so più come dirvelo Regà Ok Questo si è visto palesemente Regà Dai Ma cioè Non so Cioè Stai scherando Un po' troppo E tutto questo Un'altra bella kill Per noi E signori Procediamo Quest'arena Impossibile Perché Ve lo giuro Che giocare così È più che impossibile Regà Oh ma mi si muove ancora Ma ve lo giuro È assurdo Regà Mi sentite Sì no Tutto Tutto bene Cioè io Non ho però Beh Zio Vestate al pc Di avvia la rec Ma io ti ripeto Ma sei sicuro Ah guarda Se hai messo Bluetooth Oppure 2.4 Ho già Regà Ho già guardato Questo è mio Lì l'ho collegato Punto stop Ma se lo muovo io Va tutto bene Ogni tanto Parte una mossa strana E' quello che ho pensato Pure io Però è Scusatemi Ovvio Anche io ho pensato Virus è così Però Non so come mai Voi non l'avete visto Prima quando eravamo Cioè dai regà Cioè io spero che si noti Dal video Ma cosa La parola di meno Prima molto di più Scusa ma Tu comunque Non mi parla Te lo giuro che Ma mi fai arrabbiare Mi fai arrabbiare Perché la parola di prima Era netto Allora non mi parlare Non rompere scatole Cioè regà Ma dai Ma di cosa stiamo parlando Cioè io mi sono rotto Le scatole Ve lo giuro Non lo recco più Sto video Cioè una volta che voglio Di giocare a fortnite Magari è fortnite No non è forte Perché va Dai regà Caspita Però anche voi Con un tele Ti porta a sfortuna Cioè dopo il gioco Ti dice fuori Via dalle palle Non capite che mi fatti ridere Vabbè dai Cerchiamo di drammatizzare Ci drammatizziamo Vorremmo che butti via Il tuo video Preziosissimo Signori nuova kill Per noi Stiamo per dominare Intanto vabbè Il mouse si muove A caso ma ci sta No che muoio No che muoio Eh sì siamo morti ragazzi Come vedete Il mouse si muove da solo E io non ci posso fare Assolutamente nulla Se non questo No regà Eh però ragazzi Ferro è proprio fo Eh ok Come vedete Mi si muove da solo E sono ufficialmente Morto per colpa del mouse Questo video Può corruggerci qua Borgheli quella grandissima Regà io basta Fitto No ma veramente Allora anche basta Aspetta Aspetta C'è una roba Di che farsi è meglio Eri te bastardo Sei tornata la roba Con il tuo mouse Si Te lo collegate Se lo puoi mettere Qua Se non mettertelo In un posto Guarda guarda Tu mi hai appena Fatto buttarvi un video Io ti ringrazio e ti abbrato No 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 Ragazzi lasciate un bel like Qui 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 Mi hai appena